Quest'anno per noi l'Hub Forum è più un momento di education del mercato che un momento di trade, tant'è vero che abbiamo sponsorizzato un workshop in cui parleremo di applicazione alle nuove tecnologie di un concetto banale, quello dell'uso della creatività. Pochi si stanno rendendo conto che il mercato da display sta profondamente cambiando da una pianificazione mirata sul binomio sito-prodotto, si sta passando sempre di più una pianificazione che punta sul binomio audience-prodotto e la tecnologia oggi permette di identificare un audience segmentata per interessi. Questo è quello su cui ha investito il mercato lato technology, quindi i grandi player piuttosto che i player più piccoli come possiamo essere noi. Chiediamo a questo punto uno sforzo invece al mondo dei clienti e delle agency di innovare il concetto di creatività. Se da un lato noi adesso abbiamo la capacità di segmentare l'audience, dall'altro chiediamo messaggi e creatività differenti a cui indirizzare audience differente. Questo è quello che cerchiamo di diffondere come messaggio allo IAB di quest'anno in linea con quello che è appunto un cambiamento di mercato che dal nostro punto di vista si può identificare come la seconda grande rivoluzione di internet. Dopo il search entriamo nella rivoluzione della display. Grazie a tutti.